Le quattro persone protagoniste della rissa San Domenico il 25 novembre, che terminò con la tragica morte di Marcello Tortorici, hanno deciso di patteggiare la pena di lesioni. Due anni e otto mesi per Salvatore e Michele Fiore, rispettivamente il padre e il fratello di Kevin Fiore, ritenuto dagli investigatori l'autore della coltellata mortale alla vittima. Pena concordata anche per Massimo Tortorici e Rosario Millaci, a due anni e sei mesi. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il 25 novembre scorso i cinque si erano dati appuntamento in via San Domenico a Caltanissetta, con l'intento di chiarire una vicenda relativa a degli apprezzamenti che il figlio di Millaci avrebbe rivolto alla fidanzata di Kevin Fiore. La situazione poi è degenerata in una rissa terminata con il ferimento mortale di Marcello Tortorici.